ciao amici di buongiorno san paolo oggi andiamo a scoprire il gelato italiano venite con me bene andiamo a scoprire con Niccolò della gelateria genius ciao Niccolò quali sono i gusti più amati dagli italiani i gusti che gli italiani adorano sono il cioccolato la nocciola e lo yogurt ecco buonissimo soprattutto creme sì sì anche se d'estate comunque la frutta va fuori la fratragola, la mora, il fimo bene 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 qui vediamo intanto io prenderò sicuramente Istanbul per provarla bellissimo e poi mascarpone e Istanbul sono simili eh sì comunque sono due formaggi ecco sono due creme esatto vabbè allora provo Istanbul e sorbetto di cioccolato tu lo spessi questo lo sascia in Istanbul però questo è Kefir, va legato con i campi di distacchio e non dico buono mamma mia allora ok questo è il sorbetto sì sorbetto ma il sorbetto la differenza tra sorbetto e cioccolato questo è il sorbetto e cioccolato e cioccolato e cioccolato e cioccolato non avendoci latte ha diciamo sfregiona più il sapore e il cacao buon gelato quindi ragazzi quali sono i vostri gusti preferiti scrivetecelo e salutiamo il nostro amico Niccolò della gelateria Jones grazie Niccolò grazie a te ciao ragazzi ciao grazie